Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana ci dice che il tempo tornerà buono. Sul nostro territorio, il dettaglio di lunedì 27 marzo. Sul Veneto prevarrà il sole, cielo poco o parzialmente nuvoloso, salvo una residua variabilità tra la notte e il primo mattino con occasionali piovaschi, non del tutto esclusi anche nel pomeriggio sera. Temperature stazionarie, minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 15 e 19 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in genere poco nuvoloso, ma non è escluso ancora qualche locale rovescio, specie al mattino. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sulla cresta di confine il tempo rimarrà variabile con rovesci nevosi, mentre altrove le condizioni saranno migliori. Temperature minime sui 2 e 3 gradi, massime tra 15 e 18 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci e al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.